poi proseguendo col manchetto di 4 euro ho detto appunto che non ho trovato granché però qualcosina sì, a 4 euro ho preso un paio di pantaloni questi qua morbidi, bordò con il fiocco in vita, guardate che meraviglia sono così a vita alta e poi vengono giù classici è un pantalone morbido che fa sempre comodo, che quando non sapete come vestirvi vi mettete questo, vi mettete il tacco nero vi mettete un maglioncino, una camicetta sopra e siete super eleganti l'ho pagato 4 e poi sempre tema rosso, ho preso tutto rosso perché c'erano un sacco di cose che mi piacciono di questo colore è bordò, è rosso, questi che sono un po' più bondage questi qua sono molto carini secondo me vi piaceranno, vita alta decisamente più alta, con questa con questa cosa qua, questo intreccio qua così un po' tiri a 50 sfumature di grigio li potrei utilizzare ma l'anci mi hai pesati? li potrei utilizzare, andare a vedere il film 50 sfumature di grigio, stasera devo festeggiare San Valentino, me li metto no, non scherzo, sono vita altissima, molto carini rossi, un po' più rossi degli altri che sono più sul bordò, è un rosso vivo bellissimi, poi ho preso questa camicetta che è l'unico acquisto, diciamo, improntato per la primavera della New Collection quindi la marca che vendono anche i vostri amici cinesi nonché i miei e questa l'ho pagata a 4 e da China la prendiamo di sicuro 15 o 16 carina, color top l'unica cosa, guardate, mi piaceva tantissimo se no è semplice blusa, color top perché il collo è tutto così grinzoso bellissimo secondo me e la parte dietro ha questo fiocchetto, guardate che meraviglia questo fiocchettino fatta così e dopo una blusa morbida semplice, vedete da stirare ovviamente però molto molto bella poi ho preso a 2 euro ho provato a prendere più che preso due paio di pantaloni le ho già preso un paio però sono stata talmente cretina che non le ho ancora provati quindi non sapevo la taglia comunque sono andata solo a 42 abbastanza tranquilla e le ho messe a 2 euro le ho presi così verdi un po' strong però sono belli perché sono alla caviglia con il cinturino, vedete col cinturino con la sorniera di questo verde con queste foglie in primavera anche questi con li metterei con una camicetta bianca con una camicetta nera e poi questi qua viola rovinano iniziale questi qua viola invece sono con sulle rose e fiori e anche questi sono con le lastichine in vita da provare ovviamente molto carini perché sono cortini devo vedere come mi stanno spero che vi stiano bene grazie 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 grazie